Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi volevo farvi un video, ma non l'ho postato, perché è successo qualcosa. Infatti oggi, stamattina, sono andato in giro per la mia città a cambiare le gare di Natale e entrando in un ragazzo ho trovato Exit, il libro. La cantina dei segreti, il giallo per ragazzi. A luglio, il mio amico, il nostro corrispondente dalla Svizzera, il Trouble Maker, ci aveva mandato una foto di questo libro in tedesco. Da quel momento mi è salita una scimmia così enorme che non ho fatto a meno di pensarci tutto questo tempo. E quindi quando l'ho trovato in un negozio italiano, in Italia, in italiano, edito da Giochi Uniti, non ho potuto fare a meno di comprarlo. E quindi mi sono subito precipitato, ho pagato e poi mi sono tornato a casa. E adesso lo apriamo insieme. Non mi siedo attorno al tavolo perché questo non è uno di quei giochi di cui dobbiamo vedere i componenti. Magari possiamo vedere anche come è fatto all'interno. Quindi via il cellofan. Come sempre riciclatelo. Allora, il libro ha una... Vediamo subito che c'è una specie di... Cryptex per inserire i codici. Inserisci il codice qui. Ah! Prima di continuare a leggere, dà un'occhiata a pagina 2 del libretto. Allegato codice. Quindi andiamo a cercare il libretto allegato. Qui c'è un'altra... Qualcos'altro. Vabbè, non vi posso far vedere moltissimo. Ve lo sfoglio velocissimamente senza fare spoiler. La cantina dei segreti. Harry Potteriano. Estate. Vediamo un po' se sono... Ci sono... Ah! Ecco qui. Il codice. Questo è il libretto. Perdonate che è al contrario. Il codice. Benvenuto a... Qui c'è una foto. Questo è praticamente... Lo schema è praticamente... Non vedete molto bene. Lo schema è esattamente... Quello degli exit. Probabilmente anche in questo caso si dovrà... Indizi per la soluzione. Si dovrà tagliare, modificare... Di cose. Il libro. Se dovrà scrivere... C'è un bel po' di materiale da vedere. Io ve lo volevo semplicemente far vedere perché sono rimasto incredibilmente sorpreso. Non ci aspettavamo di trovare così presto questo gioco. In realtà, sì, me l'aspettavo, però... Diciamo che sono stato sorpreso dal trovarlo proprio sotto Natale. E tra l'altro non l'ho sentito neanche su Facebook, su Internet. Non ce n'erano notizie di questo titolo. Quindi sono molto molto curioso di sedermi attorno a quel tavolo e mettermi a giocare. E non volevo l'ora di farvelo sapere. Detto questo, ci vediamo sempre qui, sempre a Roundtable. Fatemi sapere se siete anche voi eccitati dalla notizia che Exit è diventato anche un libro game. E che soprattutto è arrivato in Italia. E mi raccomando di tenerci in contatto su Facebook, Instagram, Twitter. Ovviamente nei commenti qui su YouTube. YouTube e ci vediamo sempre qui, sempre a Roundtable. Ciao a tutti!